Alla fine di un inseguimento e di una sparatoria in autostrada fra Tournai e Bruxelles, la polizia belga ha ucciso un presunto terrorista che aveva forzato un posto di blocco. Il ricercato, un trentenne di origine algerina, era noto negli ambienti della criminalità organizzata belga, dicono gli inquirenti, che si sono mossi su indicazione dei colleghi francesi. La polizia francese sospettava che facesse parte di un'associazione criminale allo scopo di pianificare atti terroristici. A casa sua hanno trovato armi, munizioni e attrezzature paramilitari. Le forze dell'ordine, che nel quadro dell'inchiesta hanno fermato anche una donna, hanno temporaneamente evacuato tutta la strada, temendo una bomba nel domicilio del sospettato, ad Anderlecht, negli immediati dintorni di Bruxelles.